Amici bentornati sul canale 9000 giri laborazioni autosportive oggi parliamo di freni e parliamo di freni montati su questa vettura che è una 124 Abarth il motore da 170 cavalli già dimensionata adeguatamente come diametro dei dischi avendo già un impianto Brembo comunque è già adeguatamente dimensionata quello che cambia montando appunto dischi e pastiglie sportive è il fatto di avere un materiale più performante quindi non è il fatto di aumentare il diametro del disco perché questo è già un diametro abbastanza generoso ma è il fatto di passare da un disco liscio e una pastiglia diciamo stradale non è una pastiglia di chissà quali caratteristiche a un disco ABC come abbiamo fatto vedere tante volte dove viene fatta una lavorazione puntata e baffata quindi come ho già ricordato spesso il fatto di fare un foro non passante quindi si punta solo la punta del trapano fa in modo che non si indebolisca la struttura del disco quindi questo è un disco temperato a sopportare un calore superiore in questo caso abbiamo accoppiato delle pastiglie sempre ABC sportive stradali con la mescola gialla la ABC produce cinque tipi di mescole dalla verde fino arrivare alla nera passando appunto a gradazioni diverse via via fino ad arrivare a una mescola sportiva che però non è il caso di questa macchina perché ovviamente bisogna mettere in temperatura prima di frenare quindi abbiamo cambiato sia la parte anteriore che la parte posteriore poi per fare un lavoro fatto adeguatamente bene con il cliente che fra l'altro è qua che ci sta ascoltando abbiamo cambiato anche le tubazioni dei freni e questo è molto importante questa macchina non è sicuramente una macchina adattata però la tubazione del freno a parte che va cambiato ogni cinque anni ma comunque la tubazione del freno in maglia metallica questo sono tubi freno della FHL una dita tedesca che appunto fa delle tubazioni freno specifiche fa sì che la pressione esercitata dalla pompa arrivi sempre in modo costante sui cilindretti del della pinza rispetto a un tubo in metallo che dopo un pochino di tempo essendo come ho spiegato altre volte il liquido freni diciamo un liquido freni corrosivo diciamo la gomma si lasca e una parte della pressione si disperde col cosiddetto effetto polmone cioè si gonfia il leggermente la tubazione freno e parte della pressione non viene non arriva direttamente sui cilindretti della della pinza quindi il fatto di aver fatto un lavoro completo nonostante che la macchina appunto sia recente secondo noi è una scelta giusta nel senso che tante volte diciamo quando fare i nostri clienti quando fatti i lavori cercate di farli in maniera completa inutile fare le cose a spizziche bocconi tante volte ci chiedono anche solo di cambiare le le pastiglie però è sempre un compromesso che a volte va bene fino a un certo punto ovviamente se uno mi chiede cambiare solo la pastiglia non posso mettergli questa mescola qua devo mettergli la mescola diciamo con un grado termico più basso sostanzialmente le verdi perché se andassi a montare questo tipo di pastiglia che è più dura svilupperebbe un calore maggiore quindi questo disco qua lo sopporta il disco di serie dopo un po si cuoce quindi bisogna anche consigliare il cliente e soprattutto montare i componenti adeguati visto che siamo qui nel vano ruota vabbè questa macchina ha già di serie sostanzialmente una una mazza un mx5 giusto la curiosità che guardavamo prima di questa macchina che può essere interessante che è talmente mazza che addirittura ancora questi sono i bracci oscillanti anteriori sono ancora sono marchiati mazza quindi in sostanza è tutta la scocca della mazza con una carrozzeria fatta dalla fca sono quelle cose fatte in maniera ma che esteticamente diverse ma nella struttura sono esattamente uguali tanto è vero che analogamente la mazza la versione diciamo 2000 ha già di serie i Bilsen i B6 e un'altra caratteristica dove si nota appunto che è una macchina di derivazione giapponese i mozzi non hanno la vite passante ma abbiamo dovuto anni perni che escono direttamente dal mozzo quindi il cliente ci ha chiesto di montare i distanziali in questo caso abbiamo preso degli abac che abbiamo addirittura verniciato in maniera tale da creare meno distacco possibile con il mozzo sappiamo che i distanziali legalmente parlando non sono omologati quindi cerchiamo di creare questa queste scammotage come dicevo prima questa macchina qui non ha i classici perni come tutte le macchine italiane ma i perni che escono dal mozzo quindi in questo caso avevamo due soluzioni o smontavamo per poter montare i distanziali o smontavamo il mozzo mettendo poi dei perni che vanno ribattuti dall'interno con il rischio di sgranare il cuscinetto del mozzo oppure ci sono queste soluzioni che sono più costose però sono molto più veloci da montare si definisce distanziale a doppia bulloneria infatti al posto che avere cinque perni a dieci fuori di cui i primi cinque vengono agganciati al mozzo e dagli altri cinque si monta il cerchio in questo caso diciamo a livello di mano d'opera è molto molto più semplice negli altri casi è molto più complicato anzi generalmente sconsigliamo di fare questo genere di lavori anche perché in questa maniera qui è un plug and play veramente molto semplice e molto veloce se dovessimo riportare alla situazione originale dovremmo rifare il lavoro inverso quindi di nuovo andare a smontare il mozzo picchiare fuori le colonnette quindi sostanzialmente cerchiamo sempre di trovare le soluzioni più veloci e più più semplici anche per una manutenzione futura questa è la parte posteriore già che ci siamo quindi analogamente all'anteriore abbiamo fatto col posteriore ecco in questo caso il disco è ancora nuovo e questa finitura nera scomprirà con le prime frenate è un è un materiale anticorrosivo che appunto è tipico dei freni ebc queste sono le pastiglie con la piastrina la piastrina antivibrante e queste sono le tubazioni freno in maglia metallica protette dalla parte in gomma ma direi che tutto sommato è un lavoro dal nostro punto di vista fatto con criterio, fatto bene poi sentiremo anche il cliente dopo un po' di rodaggio quali saranno le sue opinioni direi che per questa macchina qua è tutto come al solito vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it soprattutto all'interno dell'archivio elaborazione dove troverete oltre a questa macchina troverete altre più di 2500 vetture suddivise per marca mi potete contattare telefonicamente allo 027383175 e soprattutto la cosa importante cliccate qua sotto sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo saluti alla prossima ciao 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 ciao